Ci dice una parola Velasco? Ci dice una parola? che viene conferita per iniziativa del magnifico rettore a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e della politica. Ed è stato proprio il rettore Francesco Bertini, nella splendida cornice dell'Aula Magna di Santa Lucia, ad aprire il pomeriggio dedicato al grande allenatore e manager sportivo argentino, che non ha voluto rilasciare intervista ai giornalisti. Velasco, oltre ai meriti sportivi, è un grande formatore. È un formatore a più livelli, non solo negli spogliatoi. Insieme alla professoressa Elena Luppi, Ubertini ha ricordato i grandi successi di Velasco, prima di lasciargli la parola per una lunga lezione magistralis. Un lunghissimo applauso ha poi accompagnato il conferimento del sigillo. La medaglia bronzo-argente, realizzata nel 1888, è composta da singole medaglie delle corporazioni che formavano lo studio bolognese. La celebrazione è terminata con i ragazzi del CUSB, vincitori ad EUSA 2019 alle Universiadi sul palco, per la consegna del pallone al rettore e delle maglie firmate a Velasco.